...agli ordini dello starter, non corre, Pulse Apart. Non brillante Gold Return. Documentario superato da Dream Seeker, che ha all'esterno Clara Bella, e vicino a Clara Bella Casa Paradiso, Dorian Gray, poi Adler, Madron, Nico De Prenzi. Intanto è in vantaggio Casa Paradiso, su Clara Bella, Dream Seeker, poi Dorian Gray, Madron, Documentario, Adler, Nico De Prenzi in coda. Gold Return, parte sinistra del percorso, con 4 cavalli virtualmente in linea, Casa Paradiso, Dream Seeker all'interno documentario, dietro a questi ci dovrebbe essere Madron, con all'esterno Clara Bella, poi Adler, con davanti Madron e Casa Paradiso, Dream Seeker documentario, all'esterno Clara Bella, poi, perché è difficile riconoscerli, all'interno c'è Ferra Mosca perché è inconfondibile, ed è in seconda linea, insieme a Dorian Gray, Gold Return e Nico De Prenzi. Dovrebbe essere Madron davanti ora, su Clara Bella, Casa Paradiso, Dorian Gray che muove, Adler, Nico De Prenzi e Gold Return, con Madron in fuga, a traguardo lontanissimo. Vediamo se Camilla ha fatto i conti giusti, in seguito da Clara Bella, Dorian Gray, Adler, tutti braccia e frusta, Madron è in vantaggio, evidente, ma il palo è ancora lontano, su Clara Bella, Dorian Gray, Nico De Prenzi che muove, Adler, braccia e frusta, quando si entra in dirittura, la visibilità è quella che è, presumo Madron sarà sempre lì in vantaggio, in seguito da Adler, in mezzo alla pista, da Dorian Gray, da Clara Bella, all'argo di tutti, Nico De Prenzi, con Madron in vantaggio, Adler, Dorian Gray e Nico De Prenzi, che provano l'inseguimento, Madron è ancora in vantaggio, in seguito da Nico De Prenzi, poi si sta ingammando a che documentario, Madron è ancora in vantaggio, stanco, Madron ma in vantaggio, su Nico De Prenzi che prova a andarlo a prendere, poi Dorian Gray nel finale, Madron, ancora la Camilla, su Nico De Prenzi, vediamo per il terzo, forse Adler, ma da vedere. Vittoria di Madron, Camilla Orlandi, picchi galoppo a suo agio sul terreno, si è involato sulla retta di fronte, poi ha reagito, comunque ha vissuto di rendita, dalla rincorsa di Nico De Prenzi, ottimo secondo, per la terza, tra Adler e Dorian Gray, io da questo punto di osservazione faccio fatica, la sensazione è che sono molto vicini, più vicini di queste inquadrature, poi magari è ancora terzo Adler, però è più stretta di quello che sembrerebbe, 3-11, per il terzo, vediamo un po' se l'1 o il 2, ve l'ho detto che erano molto vicini, molto molto vicini, si va dal giudice a scrivere 1-2 con la FF, vuol dire fotografia tra l'1 e il 2, tutto. Invasione di pista per Camilla. Commenti in sala Fantini. No, 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 questo è un cavallo che tira a Fantini e l'è scappato, però ha vinto uguale.